La vera storia dell'ospedale di Nardò. Nel 2002 con la gestione fitto c'erano 158 posti letto. Dieci anni dopo, la giunta di sinistra con Vendola elimina tutti i 158 posti letto. Nel 2019, la giunta di sinistra con Emiliano conferma la chiusura dell'ospedale. In sintesi, 15 anni di governo della sinistra cancellano per sempre i 158 posti letto dell'ospedale di Nardò. Questi i fatti. L'alternativa è chiara. Ora puoi scegliere la sinistra con Vendola e Emiliano che chiude gli ospedali o la Puglia che funziona di Raffaele Fitto.